Sapete quando siete al ristorante, il cibo è scadente e vorreste rimandarlo indietro? Non si potrebbe fare lo stesso con i figli? Cameriere, mi dispiace, questa figlia è un tantino pepata per i miei gusti, anzi direi che è alla diavola. Quanto al più grande, certo non ricordo di aver ordinato un finocchio flambé. Il più piccolo invece, non ricordo di averlo ordinato.